Quando ami una donna, apprezza le sue fragilità. Sostienila nelle difficoltà. Falla sentire importante, non in colpa. Lasciala libera di scegliere. Coinvolgila nelle tue decisioni. Sì, cavaliere, quanto serve fai un passo indietro. Parlale delle tue emozioni. Usa le mani per accarezzarla. Accetta quando ti dice basta. E tu che uomo sei. Grazie per la visione.